e ciao a tutti amici sono sempre io gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica tech place rieccoci su astroneer ragazzotti nella scorsa puntata ci siamo stabiliti qua su questo pianeta il tipo incolto oggi ragazzotti voglio farmare un po' di risorse e espandere la base perché secondo me con le ultime ricerche che abbiamo fatto abbiamo sbloccato delle cose che wow allora fino adesso praticamente ho raccolto delle risorse ho preso un po' di resina e soprattutto dei moduli di ricerca quelli basici mi hanno dato no no non quelli basici quelli di base mi hanno dato dei materiali mentre quelli un po' più avanzati non mi hanno sbloccato nulla sapete quelli che di solito danno le nuove parti bene non mi hanno sbloccato nulla e non so perché non lo so sinceramente se avete voi delle idee su questo perché credo potrebbe essere possibile che abbiamo finito effettivamente le ricerche ma la prima volta che l'ho detto mi stavo sbagliando quindi non sono sicuro neanche per questa volta quindi se voi avete qualcosa da dirmi fatelo pure io adesso vedo di spianare qua così da poter passare tranquillamente e andare giù perché vi ricordo che il sottosuolo di questo pianeta per ora lo conosciamo davvero davvero poco soprattutto perché ci vuole uccidere è questo il grande motivo nel mentre però voglio anche riempire sti buchi perché rischio la vita ogni volta sostanzialmente ok allora possiamo andare a va e basta mi avete detto una cosa una cosa che non mi sarei mai aspettato che tipo posso salire su questa cosa qua ma come la domanda è come posso salirci mi avete detto ci dovrebbe essere un posto cose del genere un attacco ma ragazzi non c'è nulla c'è proprio nulla a meno che questa cosa qua è l'unico attacco che ho trovato non sia tipo per la carrucola in quel caso come si scende da queste parti cosa cazzo è quel coso quella è energia ok quella è energia quella è roba quella è tanta roba troppa roba questo che è carbone carbone che non dovrei prendere sostanzialmente ma che prendo comunque quanta roba che ho lasciato qua sotto ragazzotti mi serve per forza un camion per forza assolutamente quindi quindi noi adesso lo facciamo andiamo a costruire uno spazio veicoli uh resina che culo e qua ci faccio lo spazio veicolo lo voglio fare lontano perché non si sa mai allora spazio veicolo servono alluminio che ho no questo è rame alluminio c'è perché l'ho ricercato cioè l'ho trovato prima eccolo qua appunto ehi questi 360 belli dai è veloce perfetto spazio veicolo chissà se è qua che posso fare l'astroneva un'astronave cos? no way no way no fucking way no aspettate aspettate mi sono fatto prendere da un attimo dall'emozione no non la facciamo subito e soprattutto non la facciamo lì perché adesso devo fare il camion poi il camion lo posso spostare al massimo ma adesso devo fare il camion serve alluminio alluminio per fortuna no no non è vero non è più vabbè non è un problema non è un problema perché basta scendere prendere la laterite e via oh 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 siamo giù siamo giù e qua c'era altra laterite cosa posso buttare no non butto nulla piazzo i titer piuttosto aia che botta ragazzi siamo giù siamo scenditi giù e sto titer qua l'ho messo malissimo perfetto ok ci sono le cose che mi vogliono uccidere cosa caccio sei tu cosa caccio scusate sono un idiota stavo morendo wow u-u-u-au va bene allora andiamo dal fonditore e appunto smeltiamo la laterite per farci un po' di alluminio allora adesso che scenderemo con l'inventario vuoto senza morire magari inizierò ad esplorare quei moduli umani perché sono belli da vedere quindi probabile si possano anche utilizzare in qualche modo vorrei evitare di morire quindi slida 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 dai che vuoi slidare ne sono sicuro come ti faccio cadere perché questa qua ragazzotti ha qualcosa di bello attaccato ah no era un modulo di ricerca bellissimo e tu invece cosa sei sei inutile mi prendo anche già la malachite così posso portarmi avanti per la costruzione dell'astronave che non si sa mai quindi allora qua abbiamo altro carbone altre cose che mi vogliono uccidere guardate mi cosa morite io scappo dalle puzzette atomiche scappiamo scappiamo insieme ti prego ti prego no devo portare un'altra cosa oddio cosa posso lasciare non dovrei lasciare nulla teoricamente quindi no niente devo tornare là devo tornare là un'altra cosa di ricerca allora cerchiamo di andare avanti come possiamo piazzando ovviamente i titer perché l'esplorazione di questo sottosuolo è qualcosa di wow non ti ho mai visto sembri un cavolo mi interessi molto e mi interessa soprattutto il sottosuolo di questo pianeta non so quante volte l'ho già detto ma voglio rimarcarlo perché è davvero davvero bello tante cose ci sono tante cose umane tante cose aliene suppongo quindi adesso torniamo indietro e cerchiamo di recuperare tutto quello che possiamo e portarlo in superficie ovviamente quindi abbiamo la malachite qua che mi porto direttamente nell'inventario e salgo con questo per ora facciamo che porto tutto su e ci vediamo poi per l'analisi no ok non resisto voglio analizzarli tipo subito allora ho portato su il cavolo per come lo chiameremo adesso viola non l'ho mai visto abbiamo anche il ram per l'astronave che però faremo dopo e abbiamo anche l'ultimo alluminio per fare il camion con il quale poi scenderemo allora però prima di tutto tu cosa sei cosa mi dai uh ricerca nulla 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 assolutamente quindi sono strasicuro ragazzotti che non c'è più niente non c'è più niente da ricercare questo perché sennò darebbe qualcosa ok dai fammi sto alluminio così faccio il camion e possiamo scendere a prendere più roba sostanzialmente ma avrò del composto fammi il camion please oddio oddio cosa è successo mi sa che non ho composto però va bene va bene va bene allora un posto messo male per lo più tre posti 25 gru ecco la gru non farebbe male stocca e lo stoccaggio è enorme però non mi dispiacerebbe questo qua a parte che poi potrei farlo anche in altri modi quanto composto serve questa parte qua di raccolta del composto ve la taglio perché non credo ne valga la pena ma poi ragazzotti torniamo giù e facciamo carico assolutamente io ora vado a cercare del composto ok allora stavo girando per cercare del composto ovviamente senza trovarlo e ho trovato quella e ho poco ossigeno cosa cazzo sei oltre ad essere bellissimo ovviamente spero di riuscire a ricordarmi dov'è no così muoio così muoio aiuto così muoio schiatto schiatto probabilmente schiatto aiuto no è laggiù è laggiù l'avevo trovata l'avevo trovata lì ci sono i titer please 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 i titer i titer please please oh mio dio mi son salvato com'è possibile oh mio dio sono falvo stava morendo sto poveraccio probabilmente ha dei danni cerebrali ok allora ragazzotti sostanzialmente il sottosuolo di sto pianeta è strapino di roba ma non c'è non c'è non ci sono le cose base ok questa qua è la pietra che mi dicevate ragazzotti per il litio cioè non non riesco a trovare composto è probabile che io debba fare una una piattaforma di scambio però sto trovando in compenso un botto di roba tipo di ricerca e cose varie come questo qua ma ormai non ci sto neanche più a perdere tempo ragazzotti perché posso credere ho ragione di credere che la ricerca non valga più nulla a questo punto sto sempre trovando meno roba anzi veramente da un po' che non trovo nulla io adesso provo a fare la piattaforma di scambio ma non riesco a ricordare se serve il composto e se serve il composto mi tocca tornare indietro a prenderlo sull'altro pianeta perché non ho trovato davvero poco in superficie nel nostro raggio d'azione qua vicino comunque dove possiamo arrivare facilmente non c'è nulla e io non so proprio cosa fare ragazzotti velocemente ho controllato un po' tutto e pare esserci nulla qua cioè relativamente nulla andiamo di là dove pensavo di espandermi ok perfetto allora piattaforma di scambio alluminio ancora meglio guardate no non ne sono particolarmente sicuro non è vero non è per niente meglio perché qua abbiamo rame rame eh qua abbiamo carbone carbane carbane e niente vabbè ma è un attimo andare giù a prenderlo ah mi stavo dimenticando allora ci tengo a salutare e ringraziare l'utente steven spero di averlo pronunciato bene per l'aiuto continuo e ti sei guadagnato prima di tutto un biscotto goldoso e poi un grandissimo nome che è il salvatore ciao allora prendiamoci tutto il maledetto alluminio che ci serve tanto qua non ne manca ok allora facciamogli fare nel mentre la piattaforma di scambio se ti vuoi attaccare grazie ok perfetto facciamo io la costruire e ci siamo praticamente più o meno più o meno allora piattaforma di scambio io ti do litio ti do del cazzo di litio te ne do tanto do anche del rame no ok il rame magari no ma tu mi devi dare 8 composto lo sai vero vai dai ci vediamo pra fuoco oh è tornata sta tornando veramente ciao piena di roba cazzo ok quindi ti faccio lo stoccaggio che è enorme praticamente e poi di camion ragazzotti ne faremo anche altri faremo un cazzo di camion enorme grazie e scambiamo del carbone perché non voglio utilizzarlo sostanzialmente quindi anche questo qua vale un po' eh mannaggia quanto vale e ci siamo wow per fortuna ci starebbe fare anche il camion con la gru e il trapano eh ci starebbe tantissimo sappiatelo ok quindi adesso noi da qua ce ne andiamo wow ecco qua il nostro camion letteralmente perché questo qua è un camion con i controcazzi allora non so se mettere già magari il trapano il trapano così no 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 ho detto una puttanata no organico no idrazina latterite malachite alluminio rame è già così le valle di roba però allora no vediamo un attimo cosa potremmo fare un altro camion ci starebbe ve lo dico però qua abbiamo solo rame l'alluminio è qua utilizzare il carbone per scambiarlo non sarebbe male io lo farei anche però poi ho paura che il camion non entra là dentro non lo so non lo so non lo so andiamo subito a vedere va no 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 figuriamoci va va no va terraformato tutto troppo assolutamente perché qua è messo davvero male allora ragazzotti facciamo una cosa dato che quella situazione si sta facendo molto ostica porto fuori il camion e concludo l'episodio quindi io ragazzotti termino qua questo episodio vi ringrazio per avermi seguito invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio e dell'andamento della serie soprattutto ragazzotti se avete dei consigli da darmi vi ringrazio ancora per la visione sono Gold e noi ci vediamo al prossimo video bye bye